bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy e adesso c'è la votazione speriamo di avere sufficienti elementi per far cambiare idea la gente i feel all of norzelia stands on the each nation is making its move we too must take by which you mean thanks to protect the woolfort domain and its people no one would dare hold such actions against you lord serenoa you must i saw what it is truly like at the source rosell and are forced into back breaking labor no decent man would condemn another to such but if we refuse the hierophant we will face the same dire consequences should that happen the rosell would still then you think it is right to sacrifice no one is saying it is right but a decision must be made we must prioritize our own survival that much should be clear ma non è vero che dobbiamo sopravvivere in questo modo dai facciamoci venire un'idea aranoa i beseech you not as one with rosell blood in her but as a person as a wolfwart i appreciate each of your arguments but we cannot debate this once more to the scales of conviction allora abbiamo tre tra proteggere i rosalini a costo di distruggere rapporto con quelli del sale quindi dobbiamo cercare di convincere allora andiamo prima dalla maghetta what do you need a presto yes I see I require some time to think ma non lo so se l'ho convinto è abbastanza cinica quella donna ma chi te l'ha detto a te che non può vivere perhaps but if so certainly not however I am decided Lord Saranoa even so if so indeed I must hear what the others think no no l'ho convinta andiamo da quest'altra per l'ultimo chance and e truly I don't know what to do. Non lo so, speriamo che ce l'ho fatta. Sa che l'ultima domanda l'ho sbagliata, ma non ce le voglio dare, Rosalini, ti prego. Dai, cambia idea, dai, cambia idea. Che padre, questo non ha cambiato idea. Ce l'ho fatta, ha cambiato idea. Dovrei avercela fatta. Sono riuscite a far cambiare idea almeno a uno. Oh sì, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok. Abbiamo salvato i Rosalini. Ora vediamo che cosa comporta sta cosa. Ho sperato che ci sarebbe arrivare a questo. Abbiamo chiesto il nostro passaggio e ora dobbiamo vedere. Abbiamo riusciti a riusciti a Rosalini. Il nostro passaggio è un rischio. Come si spettano. Come si spettano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi sarebbero morti a prescindere? No, capito. Vediamo a che livello sono. 18. Sì. 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 vedremo che rimarrà sconfitto a livello 18 cavolo io non c'ho niente a livello 18 qua allora facciamo così andiamo all'accampamento e saliamo un po' di livello se non qua ci fanno il culo perché questa la devo vincere per forza allora ok c'è uno a livello 17 quindi facciamo questo a 10 di 10 ogni ce l'abbiamo qualcuno che cura ce l'abbiamo allora attraverso a livello 15 sta questo eh come fai allora allora E sono giù entrati. Eh sì, vai! Alla prossima! no need to panic ok 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 Grazie a tutti 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 Vediamo se Grazie a tutti 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 Buon Grazie a tutti 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 Uno specchio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti